Il travaso di credibilità da Berlusconi a lei presso l'elettorato cattolico è più merito della politica dell'Udc oppure dei vari casi Rubi, Noemi, D'Addario eccetera? Ma io non penso che sia un problema solo e tanto della vita privata di Berlusconi, penso che sia un problema diverso che lì è testato, cioè il fatto che questo governo oltre che affermazioni teoriche non ha poi fatto niente in concreto. Però sulla sicurezza invece ha fatto bene? Sui problemi che stanno a cuore al mondo cattolico, prima ho fatto l'esempio della legge sulla famiglia, ma dopo due anni e mezzo si fa un convegno per spiegare cosa si deve fare sulla famiglia, ma lo sappiamo tutti che le ricette sono in modo anche diverso da come può essere declinato il quotiente familiare, o l'aiuto alla maternità per le donne, o la libertà di scelta educativa, sono tutte questioni che stanno a cuore al mondo cattolico. Dicevo prima, posso dire la cosa che volevo dire prima? No, perché le la chiedo specificamente e adesso la prima... Io vengo censurato. Censurato, sì. La conferenza episcopale, anzi il giornale, la c'è l'avvenire, non le ha fatto un favore quando l'altro giorno ha lanciato quell'anatema su Fini, sulle questioni, diciamo così, della famiglia per l'appunto, del riconoscimento delle famiglie di fatto, che è un suo alleato. Ma se, a parte che... O sarà un suo alleato? Vedremo, però, secondo me ha fatto bene a venire, a chiedere a Fini di chiarire alcuni punti. E Fini ha chiarito, ad esempio, il fatto che quando parla di famiglia parla di un uomo o di una donna e non c'è alcuna idea in lui di parificare cose che famiglia non sono alla famiglia, secondo le leggi dello Stato e secondo la nostra Costituzione. Io credo che ogni dialogo, che serva anche a far lievitare queste idee in modo più compiuto, è utile. Comunque una cosa la voglio dire, noi garantiamo questi valori nella nostra coalizione, non altri. Onorevole Casini, siamo proprio in chiusura. Allora, la tanto discussa trasmissione di Fazio e Saviano ospiterà stasera Bersani e Fini. Lei è d'accordo con chi dice che per riequilibrare il tutto bisogna che ci vadano anche Berlusconi, per esempio anche lei, Di Pietro? Non mi importa nulla. A me dispiace che questa sera vada Welby e forse anche il papà di Eluana Inglaro e non si senta, ad esempio, la voce di Mario Melazzini, presidente dei malati di SLA, che rispetto alla dolce morte che viene propagandata dalla televisione pubblica, vuole fare un inno alla vita anche per chi soffre in condizione di immobilità totale, ma vuole vivere e non vuole staccare quella spina. Mi piacerebbe che ci fosse non un confronto tra me e Berlusconi o tra Fini e Bersani, che francamente non sentiamo. Mi piacerebbe un confronto su questi grandi valori e non una campana unica. E questo però Fini non sarebbe d'accordo con lei, lo sa. Mi dispiace, io penso così e la pensa come me la maggior parte anche di questi elettori della possibile terzo polo. Bene. O primo. Grazie, grazie onorevole Casini, grazie Antonio Pulito, grazie alle spettatrici.